Sì, ma situazione per quanto riguarda i mercati del cripto un po' la scorsa settimana vi avevo accennato che la questione si stava un po' indebolendo un po' oltre anche quelle che non hanno le aspettative relative a questi mesi poi ci ha messo lo zampino anche il mercato old normale quindi standard plus 500 stanno iniziando posso offrire i mercati anche old vedremo cosa sta cambiando anche lì probabilmente ci sono delle notizie in attese relativamente alla questione pandemic eccetera però andiamo a fare il punto sui mercati aggiornando quella che è la situazione soprattutto di bitcoin per cercare un po' di chiarirci il punto di vista soprattutto per quanto riguarda questa settimana, settimana clou, ve ne avevo già parlato nell'ultimo video mercoledì scorso andiamo a capire un po' cosa sta disegnando il mercato bitcoin conferma la chiusura settimanale peggiore degli ultimi mesi nella scorsa domenica e tra le altre cose oggi sta dando anche un segnale di break daily ovviamente non settimanale daily però di un livello molto importante quali sono i prossimi livelli di supporto quale potrebbe essere lo snodo che fa muovere un po' la questione relativa a bitcoin siamo in scadenza del ciclo mensile e andiamo a fare il punto della situazione vediamo anche ethereum vediamo la dominanza e vediamo anche binance coin alla fine del video bene ma prima di andare avanti ragazzi come sempre datemi una mano con i pollicioni su questo video è il 19 di luglio oggi quindi stiamo registrando io sono alle prese con un misto vacanza concerti vari in giro per la regione insomma anche per fare qualcosa di diverso a parte lavorare ragazzi io sapete adoro la musica sono musicista e quindi ovviamente continuo a fare anche questa cosa con grandissimo piacere però siamo sempre qua sul pezzo ragazzi a aggiornarvi a un po' dire quello che pensiamo perché il mercato si è addormentato ora sta dando un po' di segnali e insomma la questione è veramente delicata allora intanto andiamo ad aggiornarci quella che è la questione ciclica sul ciclo mensile di bitcoin poi andiamo a vedere i livelli supporto che bisognerebbe attenzionare perché veramente insomma la questione è delicata allora questa struttura una struttura è veramente difficile molto numerosa di bitcoin guardate che cosa ha fatto il mercato e che cosa sta disegnando uno zig zag che sembra quasi un elettrocardiogramma ha un po' ha un po' disinnamorato ha fatto disinnamorare un po' di persone un po' di investitori dal mercato cripto è normale lo fanno sempre i mercati questo è buono perché vuol dire che stanno ripulendo poi il mercato da diciamo chi era arrivato insomma senza esperienza e senza formazione questo solitamente lo fanno per poi ripartire quindi questo è un dato positivo però allo stesso tempo comunque non è bello perché siamo in un'ottica in cui il mercato ha disegnato veramente degli zig zag che hanno portato una serie di stop per esempio di operazioni di trading insomma il classico di questa fase veramente un po' complessa allora da un punto di vista di struttura dei cicli mensili quindi lo scorso 22 giugno è stato chiuso un ciclo mensile dal quale è iniziato un nuovo movimento senza capo né coda cioè un movimento mensile però sostanzialmente di barra di congestione si può vedere in maniera abbastanza chiara che nella prima parte il mercato fa la sua parte up quindi fa un classico pattern che vabbè scherzosamente ragazzi definisce pattern caimi questo qui è un giorno rosso 123 modificato quindi più profondo col numero 2 più profondo abbiamo scherzosamente definito così poi sale e fa il massimo nella prima parte del ciclo mensile questo configurerebbe e un mensile teoricamente volto ad essere ribassista se il mercato va a disegnare un nuovo ciclo mensile ribassista deve scendere sotto questo livello di prezzo che in questo momento è circa 29.000 dollari quindi io direi 28 in alcuni casi ha fatto anche 28.8 quindi intorno a questa linea orizzontale livello di supporto 29.28.8 è un livello chiave perché perché se il mercato va a disegnare un mensile che si ferma prima di questo livello e non lo brecca allora avrà disegnato il primo mensile rialzista da due mesi se invece il mercato va a rompere il minimo da cui è partito questo movimento che vedete qui in maniera abbastanza chiara questo è un ciclo ragazzi ok questa è una struttura ciclica di breve periodo un mensile 30 giorni ok se il mercato e dovrebbe tecnicamente andare a breccarlo purtroppo va a breccare questo livello allora a quel punto va a disegnare nuovamente un mensile ribassista quindi lì ci sarà una serie di problematiche perché perché se il mercato fa un ciclo mensile rialzista e quindi riparte una nuova fase anche in barra di congestione ma una nuova fase come quella per esempio che abbiamo visto in queste prime parti qui di natura di rimbalzo allora abbiamo un primo indizio che i movimenti precedenti che la fase ribassista il bear market precedente è terminato questa fase almeno di medio periodo poi potrebbe allungare nei prossimi mesi però ha preso una pausa se invece continua la sua fase facendo un nuovo minimo al ribasso c'è e mette in crisi ulteriormente la struttura perché ragazzi perché potremmo avere avuto un allungamento di un mese del ciclo annuale e quindi non siamo in condizioni di sapere se poi il mensile di agosto potrebbe essere positivo positivo non significa che facciamo più 20 ragazzi o più 30 positivo nel senso intendo che va a chiudere con un minimo superiore al precedente già questo si chiude qui per esempio è un ciclo mensile positivo perché ha fatto un minimo rialzo lo so che è una lateralità in sostanza però teoricamente si definisce così allora la situazione entro un paio di giorni come vi dicevo la scorsa settimana è veramente insomma ormai siamo a scadenza il mercato deve dare delle indicazioni la fase ribassista in questione me l'aspettavo non è problematica in termini ciclici perché non ha rotto dei livelli importanti quello che invece potrebbe fare è andare a mettere sotto seria pressione questo livello di supporto e se lo fa ragazzi lo sciacquone è dietro l'angolo allora qui veramente farebbe danni farebbe danni e purtroppo purtroppo più passa il tempo più il mercati non hanno dato una seria netta reazione rialzista più il concetto che si vada a creare un super sciacquone e a quel punto rotti i 29 il primo livello di supporto sta a 24 ora ve lo faccio vedere però sul grafico settimanale forse si vede un po meglio e beh ragazzi quella problematica c'è allora che vado a fare praticamente una chiusura poi molto importante stile quella di marzo 2020 vada pesantemente a scendere fa piazza pulita butta fuori un sacco di gente insomma fa il solito macello io speravo questa volta il mercato ci desse un po' di fiato vediamo se bitcoin ce la fa a resistere sopra questo livello chiave questa zona qui ok se ce la fa a resistere sopra questa zona allora a quel punto se resiste fra un paio di giorni magari inizia una nuova fase di questo tipo potremmo poi andare ad aggiornarci con più serenità altrimenti i livelli di supporto da tenere fortemente sotto controllo sono tutta questa zona qui che avete visto dopodiché guardate un po a livello settimanale prima dei 20k non c'è praticamente nessun supporto questo è molto complesso da gestire quindi abbiamo questo primo livello che però un supporto non particolarmente forte almeno non in questa fase quindi il mercato potrebbe tirar su lo sciacquone fare una super shadow ribassista in questa settimana fa una cosa del genere e non sarebbe per niente bello quindi attenzione mi raccomando ragazzi non vi sopra esponete non comprate le dip senza capo e coda io sono entrato in dip su bitcoin sui livelli di luglio ragazzi che vi avevo indicato nel video ma una piccola posizione ovviamente coperta se le cose vanno storte esco in stop e buonanotte al secchio va bene non andate a sovraesporvi in queste situazioni aumentando le le finanziarie assumendovi enormi rischi comprando ulteriormente ribassi perché il mercato non ha mai dato un segnale di reazione vero di inversione di trend di breve periodo quindi qualsiasi cosa si fa in questa fase in buy è un contro trend e comprare contro trend ci vogliono le tecniche dovete sapere cosa state facendo e rischiate tantissimo non ho detto che non si può fare io stesso ho fatto un buy the leap ma bisogna avere money management e capacità stop loss strategia gestione dell'uscita capacità emozionali anche di gestire queste cose ok ragazzi si balla un po a volte può essere estremamente proficuo per esempio questi sono dei buoni livelli di prezzo se il mensile dovesse chiudere a momenti e quindi potrebbe essere molto bello però dovete ricordarvi questa questione allora anche e th è nella stessa situazione di bitcoin perché e th ha fallito in entrambi i casi dei delle strutture di price action che potevano dare fiato al mercato la prima questa che avevo fatto anche il video di reazione fallita perché interamente mangiata dalla candela precedente la seconda proprio pochi giorni fa vedete qui la piccola candelina il breakout fallito nuovamente nel giorno dopo questi sono tutte strutture di price action è anche vero che però sia in questa situazione sia in questa il mercato ha dimostrato un tentativo di reazione quindi come se avesse voglia di chiudere questa fase allora ethereum ha un minimo a ragazzi allora mi è arrivato il pacco amazon aver sentito il corriere che bussava me lo lascio questa registrazione quindi non faccio l'editing tanto non cambia niente simpatico questo è il mio libro per l'estate ok è arrivato l'ennesimo libro allora torniamo a e th è quello che stavamo dicendo allora il minimo che vediamo in questa zona è di 1717 contro questo 1711 che un doppio minimo in pratica questa zona qui deve reggere anche questo ancora una volta la struttura del ciclo mensile di etereum è identica a quella di bitcoin se non che teniamo è un po più volatile perché ha fatto veramente una doppia pista in pratica è salito è sceso con una montagna chiara il massimo è avvenuto sempre nella prima parte della struttura del ciclo un po più spostato verso centro e anche questa fase ribassista in che non termina su e th indica che il mercato sta cercando di capire se deve ripartire o meno alla chiusura di questo mensile ora ancora una volta se non scende sotto questo livello 1700 circa e th allora ok potrebbe aver star per disegnare un primo ciclo mensile rialzista di appoggio e quindi poi da lì potremmo aggiornarci perché cambierebbero tante cose ragazzi si fa un mensile in questo momento laterale rialzista è molto importante questa fase ragazzi molto importante lo so che non sembra però è così quindi i mercati nei prossimi oggi abbiamo 19 quindi qui parliamo veramente di un paio di giorni anche perché e th intorno al 23 24 di luglio dovrebbe chiudere questo ciclo ma vi faccio vedere anche bainanza come promesso alla fine del video perché perché bainanza fa due cose intanto perde la media mobile a 200 periodi sapete bene come un po consiglio la media 200 sui mercati cripto che sono open 24 ore e 7 su 7 quindi tecnicamente non è proprio una media precisa però questa è un altcoin quindi potrebbe essere molto rilevante andare a considerare intanto con la candela di oggi fa il break out daily e perde probabilmente il supporto della 200 anche bainanza poi abbiamo una struttura di scadenza di bainanza che tecnicamente dovrebbe andare verso il 22 luglio quindi siamo alle strette nei prossimi 45 giorni dobbiamo avere delle risposte dal mercato quindi possiamo attenderci un incremento di volatilità nei prossimi due giorni è abbastanza diciamo plausibile una cosa del genere e se i mercati vanno a disegnare lo sciacquone per il minimo del ciclo mensile quindi avere poi quella fase di panico se è troppo forte allora andiamo a porci l'interrogativo se sta andando allungare l'annuale eccetera se invece leggera poi riparte senza breccare i minimi precedenti potrebbe essere un punto di svolta e poi noi saremo in questo caso proprio a cavallo anche qui vedete su bainanza abbiamo una particolarità differenza di eth bainanza ha già un mensile rialzista però ragazzi questa cosa con le shadow pronunciate mentre invece le close sono praticamente identica anzi forse probabilmente la chiusura è anche più bassa vedete questa zona qui o è praticamente identica perché qui ha chiuso a 262 e qui ha chiuso a 260,70 cent allora ragazzi questi sono doppi minimi poi bisognerebbe considerare anche il fatto che stiamo parlando di altcoin quindi comunque ci hanno una volatilità enorme quindi andare a fare tutte queste strutture sul singolo cent non ha nessun significato da un punto di vista classico quindi io direi che anche se sembra che bainanza abbia un ciclo mensile già fatta al rialzo questo non è un ciclo di rialzo è una barra di congestione ok attendiamo qui vediamo se continua questa fase credo che replicherà al cento per cento quello che farà eth sostanzialmente aumenta un po la la volatilità ma poi alla fine fa quello che fa eth dalla dominance non abbiamo grandi 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 informazioni perché ancora dominanza non ha aggiornato i presenti mazzi e anche questo è significativo perché se il mercato dovesse tirare uno sciacquone probabilmente anche il la dominance potrebbe andare a risalire in questa zona ancora siamo anche lontani da questa media questa è una media a 26 che cioè è una media in termini settimanali di sei mesi relativamente appunto alla alla dominance siamo lontani ragazzi questa media deve scendere per attendere un po di fase di recupero ma la dominance secondo me in questa fase è più una battaglia fra bitcoin è più una battaglia fra bitcoin e ragazzi eth perché perché tra di loro si dividono in sostanza la dominance se eth guadagna molto più di bitcoin allora si prende un po la dominance di bitcoin va bene allora vi lascio anche insomma per pressione come sempre il mio canale e instagram che stiamo sviluppando in questa fase e ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate della situazione delicata veramente veramente delicata attenzione la volatilità soprattutto nei prossimi due giorni ragazzi ok scrivetemi nei commenti quello che pensate soprattutto come vi state comportando in questa fase veramente difficile dei mercati ciao a tutti